Ave popolo di Youtube, io sono TearlessRaptor e vi do il benvenuto in questo nuovo episodio della nostra videocarriera su Viva18 con l'Offenheim. Oh yes baby, bentornati. Dunque, durante la registrazione dell'episodio precedente, ossia quello in cui abbiamo cercato di portarci a casa il mondiale del 2018 con il Brasile, sono anche successe delle cose rilevanti per quello che concede la nostra carriera con l'Offenheim. In quanto essendosi concluso il mondiale intorno al 20 di luglio, i primi 20 giorni del mese sono stati dedicati anche in parte al calciomercato. Pertanto passiamo la linea al Tearless del passato in modo tale che possa farci vedere che cosa è successo nei primi 20 giorni di calciomercato. Un salutone al Tearless del futuro, qua è il Tearless del passato che vi parla per dirvi che mi sono appena arrivate un sacco di mail dicendomi che sono rientrati dal presito mille mila giocatori diversi di cui non me ne frega assolutamente nulla. L'unico di cui mi importava qualcosa era Sergio Gnabry che tuttavia è rientrato alla casa base Bayern Monaco e lui sarà il nostro primo obiettivo di questo primo calciomercato estivo, non invernale, dannazione. Allora gente, appena iniziata una nuova stagione in questo momento e di budget non so ancora quanto io abbia, soltanto 37 milioni e mezzo, dei quali ne dovrò utilizzare più o meno 25-26 per andarmi a prendere Sergio Gnabry dal Bayern Monaco. Quanto prendi stipendio? 90 mila, 20 milioni e 500 mila di valore di mercato, potremmo anche riuscire a strapparglielo per... Sì, più o meno quei 22-23 probabilmente. Andiamo subito ad acquistarlo. Stipe Pelizza non mi interessa. Andiamo... Ha una claude recissoria? Assolutamente no. Andiamo a contattare il Bayern per acquistare il buon Sergio Gnabry. E vediamo se riusciamo a riportarci alla casa prima di qualsiasi altra cosa in questa stagione. Prima di giocare la partita contro l'Italia. Offerta per il cartellino. Andiamo e buttiamo lì questi 22 milioni e vediamo se li accettano. Vediamo. Vogliono 35 milioni e 9. Raga, non ce li ho. Non ce li ho? Possiamo un attimo tipo venirci incontro? Mi fai lo sconticino a 28? Dai, ti prego. Ti prego. Non posso permettermi di più? Vuoi 30? Dai, facciamo 29 che è anche il suo numero di maglia e ci siamo. Ok, no, non 29, 990 mila. Facciamo 29. Ottimo, avanziamo l'offerta. Dai, per un milioncino me lo fai lo sconto. Perfetto. Sergio Gnabry è uno dei nostri. Andiamo a contrattare il contratto con lui. Prendeva 90 mila di stipendio dal Bayern, quindi gli dovrò offrire 100, 110, credo. Ruolo cruciale, assolutamente, assolutamente. Sarà il nostro titolare. Durata 5 anni. Vediamo se accetta. Perfetto, bravo Sergio. Closula recissoria? No, niente closula recissoria per il buon Sergio Gnabry. E perfetto. Vuole 105 mila di stipendio. Bonus di ingaggio di 1 milione. 5, 15 gol. Sì, accetto tutto. Perfetto. Mi rimangono 4 milioni. Che non mi basteranno mai nella vita. Devo mai nella vita. Però, 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 poi andando a vendere il buon Norvait. O Norvait, dovrei dire. Dovremmo riuscire ad accumulare abbastanza milioni per andare poi a prendere un nuovo centrocampista. Non centrocampista, difensore centrale. Da affiancare come titolare al buon Kevin Vogt, il nostro capitano. Allora, l'Ipsia in questo momento mi sta offrendo 13 milioni e 7 per il buon Norvait. Che potrei provare a venderlo per una cifra intorno ai 18-19. Facciamo 19. Poi una nuova offerta per il cartellino. Andiamo a chiedere 19 e vediamo cosa ci dicono i giochi... Cioè, i cosi dell'Ipsia. Si dice 9 più clausola di rivendita. No, va bene la clausola di rivendita, però... Voglio una nuova... Voglio 17 e 9. Dai, è un milioncino di più e me lo butti dentro, vero? Yes! 18 milioni per Norvait. Questa cosa è buona. Stiamo andando a rinforzare una nostra diretta concorrente, ma... Ma, 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 ma... A questo punto abbiamo abbastanza milioni. Più o meno una ventina, per puntare a un buon centrale. Un salutone al tiros del passato. Grazie per aver fatto queste due splendide operazioni di mercato. Ossia andare a riacquistare il buon Sergio Gnabri dal Bayern Monaco. E soprattutto andare a vendere, per una cifra secondo me spropositata, il buon Norvait all'Ipsia. Pertanto adesso la mia formazione titolare è la seguente. Non cambia molto rispetto all'anno scorso. Ho cercato di sfruttare la prima stagione e il fatto che i giocatori costassero poco, per l'appunto, in quella prima stagione. Per andare a rafforzare la squadra il più possibile, adesso si tratterà soltanto di andare a fare uno o due spostamenti massimo a calcio mercato. Il primo spostamento è stato per l'appunto andare a riacquistare Sergio Gnabri dal Bayern Monaco. Il secondo, invece, consisterà nell'andare a cercare un altro difensore centrale da andare ad affiancare al buon Kevin Fogt, in modo tale da poi andare a prendere Upamecano e metterlo nella formazione di riserva accanto a Hovma, spostando poi effettivamente fuori dai giochi il buon Akpoguma. Cosa che mi dispiace, ok, però abbiamo bisogno di un difensore centrale tosto. Perché, ragazzi, quest'anno abbiamo la Champions. Tuttavia, attualmente, abbiamo soltanto 17 milioni di budget, che significa zero, considerato che avremo anche uno stipendio da pagare. Quindi, 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 dobbiamo andare a vendere un bel po' di persone e sappiate che siamo pieni, pieni di giocatori ovunque in questa rosa. Pertanto andiamo a vendere tutti quanti i giocatori inutili, tipo il Quaro Svebe, il Signor Gimber, il Signor Mez, possiamo mettere in prestito anche Ox, possiamo vendere Pires, possiamo provare a vendere anche questo Attic, e poi anche Zulj. Zulj forse potrebbe fruttarci qualcosina. Uh, ah no, ok, ci hanno chiesto il prestito per Zulj. No, no, ma voglio proprio venderlo. Ed infine dobbiamo vendere anche Skenderovic, Joelinton, Czolak e Hack, che adesso può essere effettivamente venduto. Perfetto. Vediamo se arrivano offerte per qualcuno di questi giocatori, dopodiché eventualmente ci risentiamo. Scherzone, prima di fare qualsiasi altra cosa, volevo un attimo andare ad informarmi riguardo al giocatore che mi interessa acquistare per la difesa, accanto a Kevin Vogt. E il giocatore in questione lo abbiamo avuto come avversario in finale di Coppa di Germania. Sto parlando del buon Stark, di cui non so il nome, però credo sia Niklas, ecco. Mi immaginavo fossi Niklas. Suona bene, Niklas Stark, che adesso è dell'Eintracht Francoforte. E vediamo se possiamo provare ad acquistarlo, perché è arrivato lì nel 2017. Forse era in prestito, allerta, vero? Beh, vediamo, sarebbe un buon colpo, eventualmente chiediamo informazioni, tra sei giorni avremo la nostra risposta. E no, assolutamente no, non do in prestito mai il caro Lucas Anderson. È anche arrivato il momento di prendere una decisione riguardo ad alcuni giocatori della primavera, e direi di andare a prendere tutti coloro che hanno più o meno un potenziale compreso tra il 75 e il 94. O meglio, che hanno un tetto massimo di potenziale intorno al 94, non più basso. Forse anche il 90, posso accettare. Però questo Asini, direi di prenderlo. Questo Mammeri, direi assolutamente di prenderlo. Stesso discorso per Benzai, mentre lui se n'è già andato. E quest'altro Benzai, invece, posso anche lasciarlo lì dov'è. Jason Fanning, andiamo a prenderlo. Fitzpatrick, andiamo a prenderlo. Schifezza. E prendiamo anche il buon Kien. Perfetto. E infine abbiamo il rapporto dal Belgio. Tu, assolutamente no. Tu, assolutamente no. Tu, rischiamo? Rischiamo. Tu hai 15 anni, potresti crescere molto come centrocampista. Io ti prendo. A te assolutamente sì. A te assolutamente no. A te assolutamente no. E infine, assolutamente no. Perfetto. Quindi abbiamo già la nostra prima rosa. La Dinamo Mosca vorrebbe Nico Schultz. Schultz che di base non mi serve più. Potremmo provare a venderlo. Se ci danno 15 milioni per Schultz, li accetto. 15 milioni non ci daranno mai. Però se provano a scendere intorno più o meno ai 13, già ci sto. Vediamo. Comunque sì, abbiamo creato un piccolo organico primavera. Adesso andiamo a vedere un attimo come è messo. Taglie. No. Non possono salire oltre gli 8,5. No, rifiuta, mi dispiace. Oltre 8,5 assolutamente no. 8,5 per Schultz è roberi, come si dice in inglese. È una ladrata. Vediamo Stark. Stark è un 79. Sarebbe molto molto buono. Però non è che mi faccia impazzire. È aggiudicare dalle statistiche. Oddio. Non è neanche così male. Non è neanche così male. A una buona velocità potrebbe eventualmente giocarci da terzino. Quando dovesse partire Schultz. Ricordiamoci a questa cosa. È un valore di 14 milioni. Stipendio da 30 mila. Quindi salerà intorno ai 35. Ok. Stark mi piace. È offerta per Gimber. 1 milione e 2 dal Duisburg. Accetto offerta. Non sto neanche qui a contrattare onestamente per questi giocatorini. Non mi interessa. Sono 100 mila euro in più a giocatore. Non fanno la differenza alla fin fine. E non siamo riusciti a vendere Gimber. Perché probabilmente vuole troppo stipendio. Dannazione. Quanto sono viziati questi giocatori. Anche troppo. Ux. Lo vorrebbe in prestito il Borussia Mönchengladbach. Ma giocherebbe al Borussia. Questo non credo. Non credo giocherebbe lì. Perché avrebbe tanta competizione. Quindi no. Mi dispiace ma lo rifiuto il Borussia. Voglio una squadra in cui possa giocare tanto. In modo tale che possa crescere. Non che lo tenga in panchina. Perché per quello ci sono già io. Joelinton da parte dell'Eintracht Braunschweig. E va benissimo. 2 milioni e 9. Accettiamo l'offerta da grandissima. Ciao buon uomo. E' stato bello. E stavo pensando che Upamecano sta crescendo davvero tantissimo. Southampton vorrebbe cadere Abek. E rifiuto l'offerta. Mi dispiace. E Upamecano sta crescendo tanto. E a quel punto andare a prendere Stark sarebbe un po' un'esagerazione. Quindi potrei andare a cercare un altro difensore. Magari meglio di Hovma. Da affiancare per l'appunto all'olandese. Però non più forte di Upamecano. Perché sarebbe soltanto uno spreco. Vediamo. Oh abbiamo venduto Huck. Quindi primo giocatore è andato. Questa cosa mi fa piacere. Oh il Sheffield vorrebbe Geiger. Però mi serve Geiger. Come difensore extra. Quest'anno c'è anche la Champions. In caso di infortuni abbiamo bisogno di qualcuno con cui andare a far riposare i nostri giocatori. Adesso abbiamo più o meno 19 milioni di budget trasferimenti. Appena c'è una notizia su Soyuncu possiamo vedere se potrebbe valerne la pena provare a comprarlo. Interesse per Soyuncu. Vediamo. Questa è buona eh. Questa è buona. Vediamo. Ok. Il portivo Iki che ha presentato un'offerta per il prestito. Vediamo come ha messo. 76 di overall. Terribile Soyuncu. Terribile. Eppure era un buon giocatore. A questo punto punterei piuttosto Stark. E' che Stark dubito me lo passino poi eh. Altrimenti sentite. Va anche benissimo così per me eh. Kramaric. Il West Ham. No. No. Stesso discorso che abbiamo fatto per Demir Bay. Tutte queste offerte le rifiutiamo. No. Come ho pagato la clausola recissoria per Grillic. E chi lo sapeva. Andiamo a rifiutare intanto lo Spartak Mosca. E andiamo a rinnovare il contratto a Grillic. Perché ci serve. Dannazione. Che palle ste cose oh. Dove sei Grillic 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 Grillic. Andiamo a trattare per il rinnovo del contratto. Prima che lo Zenith possa fare danni. Andiamo a offrire lo stipendio da 30.000 a settimana. Ok. Con un bonus di ingaggio di 750. Più un bonus di un milioncino dopo 15 presenze. Vediamo se accetta. Ottimo. Perfetto. Florian bentornato tra noi. Che ansia. Mi sono venuti. Mi è venuto un'ottimo l'ansietta. Il punto è che questa cosa qua ci ha tolto del budget. Un milioncino. Facciamo la mossa. La facciamo la mossa per Soyuncu. Oppure ci teniamo a Poguma. E. Hovma e in caso facciamo dei miglioramenti. Che palle. Tutti quanti che vogliono Kramaric. No. Al massimo facciamo dei miglioramenti durante il prossimo mercato. Il fatto è che mi fa strano che non si riesca a vendere gli altri giocatori. Ho capito che fanno schifo. Però. Non fino a questo punto. Il Milan ha Coutinho, Robben e Buschezza al momento. L'Inter ha appena venduto i Cardi al Real. Non male. Ok. Potrebbe essere un'offerta. Basta voler prendere dei miei urbani. Oh. Offerta per Schultz. Sta pagando la clausola recissoria per Schultz il Mainz. Questo è buono. Potrei puntare Stark. Potrei puntare Stark effettivamente. Undici milioni e mezzo per Schultz mi vanno bene. Prego Schultz dammi notizie. Dammi notizie. Ti prego. Fa che sia Schultz che è andato di là. Ottimo. 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 E ora a questo punto. L'abbiamo venduto effettivamente. Non ancora. Aspettiamo un'ora. Stop trattative. Ok. Ho fatto bene. Ho fatto bene. Mi tengo Schultz intanto. Mi tengo Schultz. Perché non volevo rischiare di avere poi troppi giocatori in rosa. Mi tengo Schultz perché sta prima metà di stagione è perché non ho trovato un accordo per quello che riguarda il cartellino. Va bene così. Vedo magari di... Non so cosa fare con tutti i giocatori extra. Mi piacerebbe rescindere i loro contratti. Ma mi sa che mi costerebbe una cifra incredibile. Vero? No. Con molti di questi potrei anche farlo. Sapete? Troppi giocatori già ceduti. Ah. Questo è un problema. Questo è un problemino. Vabbè. Skandarovic. MES. Pires. Schwebe. Ciollac. E Zulj. Vedrò di venderli nella prossima sessione di mercato. Magari non tutti ma la stragrande maggioranza. Quindi ora che abbiamo finito. Sono un attimo curiosi di vedere quali spostamenti hanno fatto le altre squadre. O il Bayern Monaco ha venduto Gnabry, Vidal e Robben e ha comprato CDB, Martial e David Silva. Bestia. Bestia. Ma Vidal quindi? Quindi quello del Bayern Leverkusen è il Vidal e il Bayern Monaco per 30 milioni? Vabbè sapere lo prendevo io Arturo così. Minchia. Il Lipsi ha svenduto tutto. Ha fatto un profitto di 140-130 milioni di euro. Però ha venduto Werner, ha venduto Forsberg, ha venduto un po' di giocatori buoni eh. Pesa. Pesa un sacco. Il Borussia Mönchengladbach ha comprato Lucas Moura. Quante... Quanti spostamenti strani ho visto in questo... Ha preso... Alisson, Mario Rui e Starridge per il Wolfsburg. Dannazione si sono rafforzati un sacco eh, un sacco di giocatori. Voglio provare a fare una cosa prima che sia troppo tardi. Voglio vedere se a questo punto posso provare a prendere Stark in prestito. Ok. Niente prestito. Va bene. Allora a questo punto avanziamo e concludiamo questo calcio mercato. Non ditemi che sono offerte quelle. Perché vi uccido. A tutti quanti. No, ok. Uh, offerta per allenare il Belgio. Pesa. Mi piace. Va bene gente. Quindi per concludere questo episodio direi di andare a giocare le prime due partite di campionato così per darci il via in maniera buona e bella pesante. Vi vedete andare a giocare la nostra prima partita contro l'Union Berlino. Ok. Che è salita in Bundesliga. Non si sa come. Maglietta blu per noi. Maglietta bianco-rossa per loro. Formazione titolare direi di sì. Direi che sia il caso di fare esordire loro. E siamo pronti per il resto. Sì. Sì. Tutti pronti. Ed eccoci quindi qui alla Neck Arena di Sinsheim. Pronti per fare il nostro esordio in questa Bundesliga stagione 2018-2019 contro la neopromossa Union Berlino. E ragazzi, quali sono i nostri obiettivi per questa seconda stagione in Bundesliga? Beh, considerato il fatto che nella prima stagione, un po' sorpresa visto come eravamo partiti, siamo riusciti ad arrivare in zona Champions, quest'anno vorrei cercare di puntare alla vittoria del titolo. So che può sembrare un po' esagerata come cosa, però credo fortemente che ce la faremo, dato che già i meccanismi sono ben oliati, la squadra si conosce e siamo nettamente più forti rispetto agli anni precedenti. Mi hanno appena steso di Mirba in area come se non la fosse, ma dettagli. Quindi io credo che una vittoria sia possibile. Non facile perché abbiamo davanti il Bayern Monaco, abbiamo davanti il Borussia Mönchengladbach, il Borussia Dortmund, lo Schalke, il Werder Bremer, il Wolfsburg, insomma, tutte buone squadre, però nessuna di queste è effettivamente imbattibile. Perciò io intendo provarci, e questo qua a partire da oggi contro l'Union Berlino. Gente, abbiamo bisogno dei tre punti. Sarà giù Gnabry, grande ribbing sul suo uomo, Gnabry va a servire l'Axalt, Inara l'Axalt a tu per tu con Busca! Diego L'Axalt! Goal all'esordio per lui, si presenta così ai suoi nuovi tifosi. Il giocatore è arrivato a parametro zero dal Genoa quest'estate. Signori, Diego L'Axalt! Prima partita per lui con la maglia dell'offene in prima rete. Wow! Wow! Ci ha messo 20 minuti a segnare. E io che gli ho dato il bonus tipo per... Tipo di 3 milioni per 15 gol. Se cominci così io mi spavento, sai, Diego? È già! È già! 1-0 per noi dopo neanche 20 minuti. Demir Bay va a lanciare Gnabry che punta al suo uomo. Bravissimo Gnabry a saldare Pedersen. Adesso è a tu per tu con Busca. Gnabry, Gnabry, Gnabry. Col destro Sergio! Gnabry! E sono i soliti 5 minuti dell'offenheim che rimangono nonostante la stagione sia nuova. Sergio Gnabry. Primo gol in Bundesliga per lui in questa stagione. Dopo un assist fantastico a Diego L'Axalt. Trova pure il 2-0. Mattatore assoluto Sergio Gnabry che adesso è di proprietà dell'offenheim. Non è più un giocatore del Bayern. E quindi possiamo coccolarcelo. Coccolarcelo. Tutto quanto. Mamma mia. Mamma mia, Sergio. Che bello. 2-0 per noi. Faccio A e pallone in profondità per Demir Bay che è scattato sulla linea di fuorigioco. Demir Bay in area numero 10. Rientra sul destro. Demir Bay va a piazzare. Ci arriva Busca. Demir Bay dal limite fa partire il destro. Pallone sul fondo. E signori, è arrivato il momento di un altro esordio per noi. Uscirà Mark Stendera ed entrerà il nostro numero 7. Amato Ciciretti. Grande amato. Benvenuto all'offenheim. Anche lui è arrivato a parametro 0 dal Benevento quest'estate. Spero che possa aiutarci a fare la differenza. Gnappe, gran pallone in profondità per Demir Bay. Demir Bay, pallone sul destro. Ancora per lui va a calciare. Ci arriva Busca. E poi di testa malissimo Baciuay. Bastava indirizzare il pallone verso la porta, ma invece no. L'ha indirizzato tra le braccia del portiere avversario. Geniale. Baciuay dal limite allarga per Caderabia. Che è quello qua. Pavel, pallone in mezzo verso Andersen. Gran colpo di testa del numero 8. Ma ci arriva Busca. Peccato fosse centrale quel tiro. E la partita finisce qui. Offenheim 2, Union Berlino 0. Sono bastati quei 5 minuti di esplosione della squadra di casa per portarci a casa la vittoria. E come sempre ciò accade. Cioè, non è un qualcosa di atipico. Ci succede sempre questa cosa. Però abbiamo giocato molto, molto, molto bene. Come potete vedere abbiamo dominato l'Union in lungo e in largo. C'è una cosa che mi preoccupa però. Ossia, un infortunio ad Amiri. Che ha dimostrato quindi di avere questa tendenza ad infortunarsi facilmente. Non vorrei dovesse stare fuori per troppo tempo. No. Pare di no. Hoffman ci è rimasto male perché non ha giocato il titolare. Succede Justin. Non preoccuparti. Ti rifarai. Avanziamo quindi fino alla seconda partita. Che arriverà dopo la pausa delle nazionali. Nazionali è offerta per il trasferimento di Skenderovic. Che accetto. Fa pure Karlsruher. Mio Dio. Faccio sempre fatica. Uno scioglilingua è il nome di quella squadra. E la seconda partita del giorno sarà contro l'Eintracht Francoforte. Il Cile ci offre di allenare la loro nazionale. Mi dispiace. Avrei voluto. Però il problema è che vi ho già allenati. E vorrei provare una nazionale diversa. Tipo la Colombia ci starebbe questo giro. Sì, sarebbe figo. Detto questo. Andiamo ad allenare l'Eintracht. Andiamo ad allenare. Ad affrontare l'Eintracht. In questa ultima partita del giorno. Maglietta blu per noi. Bianca per loro. E formazione. Questo giro di riserva. Perché me la sento. E con questi 11 giocatori in campo. Siamo pronti per affrontare il Francoforte. Ed eccoci quindi qui alla Commerzbank. Forse è Commerzbank. Sì, forse è Commerzbank. Va beh, fa lo stesso. Siamo qua allo stadio dell'Eintracht Francoforte. Per affrontare questa squadra. Che l'anno scorso. Penso si sia piazzata in zona Europa League. Quindi spero per loro si siano sistemati bene la formazione. Perché adesso dovranno affrontare una grandissima corazzata. Ossia noi. Vediamo se riusciamo a stenderli nonostante la formazione di riserva. Andersen va a cercare in verticale. Poi Ampala. Eccolo qua. Poi Ampala. Tu per tu con Radecki. Poi Ampalo. Joel Poi Ampalo. Prima marcatura per lui in questa Bundesliga. E ragazzi. Credo che sia stato l'acquisto più bello che io abbia mai fatto. Il buon Joel Poi Ampalo. Perché pagato poco. Sulla carta anche piuttosto scarso. Perché è arrivato ad era un 72. Però ragazzi. Ogni volta che si trova tu per tu con un portiere avversario. Non sbaglia mai. Joel Poi Ampalo. 1-0 al 26esimo. Poi Ampalo. Attenzione. L'ho tosato davanti al set. Tu per tu con Radecki. Poi Ampalo. Pallone sulla riga dopo aver colpito la traversa. E si libera del pallone. La difesa dell'entrack francoforte. Vicinissimo al raddoppio. Il buon Joel Poi Ampalo. Attenzione però. Perché ancora in passione del pallone la formazione di Sinsheim. Vitigno. Pallone tra l'alep. Per Ciciretti. Fino in fondo Ciciretti. 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 Salva tutto quanto Falet. Che delusione. Povero Joel. Andersen dell'impedellare al numero 8. Va a cercare l'alep. Ciciretti a tu per tu. Con Radecki. Che ci arriva allungandosi. Vicinissimo al 2-0. L'offenheim. No. Povero Ciciretti. Umar. Palone in profondità per Haller. È scattato al numero 9. Pressato da Kpoguma. Ancora Haller. Cerca sul secondo palo. Creici che arriva a Rimorchio. Errore clamoroso dell'ex ala del Bologna. Mio Dio. Vicinissimo al pareggio L'Eintracht. Rimessa per L'offenheim con Watt Pauz. Che tocca indietro da Grillic. Poi di ritorno. Per Poi Ampalo. Che la tiene dentro. Gran giocata di tacco. Per Watt Pauz. Ci arriva Ciciretti al volo. Si oppone con la faccia. Il difensore centrale. Dell'Eintracht Francoforte. Che nega così il 2-0. D'Amato Ciciretti. Ah. Povero uomo. L'ho cercato. È il gol di Ciciretti. Lo ammetto. L'ho cercato. Vabbè. Peccato. Questo cos'è? Ah. Il tiro è uscito fuori di Boateng. Non l'avevo neanche notato. Vabbè. Partita molto smorta questa qua. Soprattutto se paragonata a quella di prima contro l'Union. Però credo sia un qualcosa di piuttosto normale. Insomma. L'Union non è una buona squadra come l'Eintracht. Che girone pesante ci siamo beccati. Olympique Marsiglia. Club Bruges. Vabbè. Il Bruges sarà quello eliminato sicuro. E Real Madrid. Bestia. L'Ofenheim al Bernabeu. L'Ofenheim al Bernabeu. Siamo carichi. Tuttavia gente. L'esordio in Champions lo vedrete nel prossimo episodio. Episodio che uscirà come sempre mercoledì alle 2.30. Da tir le salve da questo video è tutto. Io spero che vi sia piaciuto. Se così fosse. Vi do lasciare un bel like a posta in descrizione. Da tutti quanti i miei social network. E noi ci vediamo più tardi con un nuovo video. Avete una buona giornata. Bye bye. Ciao. 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 Grazie a tutti